Allora diamo il benvenuto quest'oggi a queste migliaia di ciclisti che sono venuti ad onorarci a Peschiera io e il vice sindaco Elisa Ciminelli ci siamo svegliati prestissimo questa mattina per dare il benvenuto e dare il via ringraziamo Tazio Palvarini che è un organizzatore veramente eccellente che ha fatto in modo che Peschiera fosse quest'oggi visitata da queste migliaia di sportive bella città, bello sport Zabetelloni nel cuore di Peschiera del Garda per le premiazioni verranno premiati i primi cinque di ogni categoria sia per quel che riguarda la gara maschile sia per quel che riguarda la gara femminile per quel che riguarda le società andremo a premiare le prime cinque società con maggior numero di partecipanti di partenza con il sindaco Maria Orietta Gaiulli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti